E a due anni dall'inizio della guerra in Ucraina, questa sera a partire dall'evento in piazza Duomo ad Acireale, si svolgerà un sit-in e una fiaccolata per la pace e contro gli armamenti. L'iniziativa, organizzata dal coordinamento Acireale per la pace, insieme alla diocesi di Acireale, pastorale sociale del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato, ha ottenuto il patrocinio del comune di Acireale.